L'anno 2014, il giorno 22 del mese di febbraio, in Roma, nel Palazzo del Quirinale, nelle mani del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ai sensi dell'articolo 93 della Costituzione, prestano giuramento il Dottor Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione. Grazie Presidente. Grazie Presidente. L'Onorevole...